Hai mai incontrato una ragazza che ti abbia colpito, scambiato i numeri, organizzato di uscire e poi non vederla mai più? Se sei come me, la risposta è sì e probabilmente è successo più di una volta. E questo perché ci sono circa una dozzina di altri ragazzi che cercano di attirare la sua attenzione allo stesso tempo e i tuoi messaggi semplicemente non si distinguono dagli altri. Anche se l'hai colpita di persona, devi continuare a farlo tramite messaggio. Quindi voglio darti 5 suggerimenti per separarti dal branco, renderla più attratta da te e organizzare un appuntamento. In primo luogo, quando vi scambiate i numeri, salvati nel suo telefono in modo divertente. In genere qualcosa che le ricorda come ti sei comportato è l'arma migliore. Quindi diciamo che l'hai incontrata in una discoteca. Puoi salvarti come Dave il ballerino o Dave lo sculettatore. È una piccola mossa che però fa una grande differenza ogni volta che la contatti perché le ricorda il tuo senso dell'umorismo. L'obiettivo è proprio quello di farla sorridere ogni volta che vede un tuo messaggio. Dopo aver aggiunto il tuo contatto nel suo telefono, inviati un messaggio. Lo puoi fare per più motivi, in modo da avere il suo numero ma anche perché tu possa iniziare a flirtare tramite messaggi immediatamente. Inviati complimenti stupidi. Potresti scriverti ad esempio, oh mio dio il sogno si avvera. Sono così felice di aver finalmente trovato il tuo numero maschione. A volte lei non si rende nemmeno conto che tu gliel'abbia mandato. Ed è divertente perché il giorno dopo puoi rispondere con qualcosa del tipo oh sei così dolce, non dovevi dirlo. Ha iniziato la conversazione in modo divertente e mo' è più facile continuare. In terzo luogo, una volta che stai messaggiando non rendere tutto macchinoso. La maggior parte dei ragazzi invia messaggi come, hey sono Jack, mi sono davvero divertito ad incontrarti. Com'è andato il resto della serata? Questo è un buon pensiero ma è anche noioso perché alla fine si tratta di pura logistica. Piuttosto mandale qualcosa che susciti emozioni. Tipo, come andata la tua serata? Hai addescato qualche altro incredibile gentiluomo al bar? In entrambi i casi le stai chiedendo della sua serata, ma in uno sei scialbo e nell'altro la stai facendo sorridere con un po' di arroganza. I messaggi che creano un maggiore convolgimento emotivo sono quelli per cui è più probabile che lei ti risponda. In generale, una buona regola nel mandare messaggi e chiedersi, su una scala da 1 a 10, quanta emozione suscita questo messaggio? Se è inferiore a 3, cambialo o non inviarlo. Usa il callback humor. Il callback humor è di gran lunga il modo più semplice per creare un messaggio, unico e divertente. Fai semplicemente riferimento a qualcosa che l'ha fatta ridere quando stavate interagendo. Quindi se l'hai incontrata mentre eri fuori a ballare, ad esempio, potresti dire, per tua informazione, la mia crew di ballerini ha fatto nera la tua squadra ieri sera. Non battere lo stesso tema fino alla morte. Se ti riferisci adesso più volte, passi per il ragazzo che si aggrappa all'unico momento positivo che hai condiviso. In quinto luogo, quando arriva il momento di organizzare un'uscita, chiedile qualcosa di cui possa essere entusiasta. Dopo due o tre giri di messaggi divertenti, di solito sei più che pronto per organizzare qualcosa. Che lei accetti o meno il tuo invito avrà molto a che fare con quanto esso sia stimolante. Fare qualcosa al venerdì non è stimolante. Anche una bella cena può essere noiosa. O peggio, può sentirsi nervosa al pensiero di passare un'ora e mezza a mangiare davanti a un estraneo e potrebbe rifiutare solo per evitare il potenziale imbarazzo. Ma se la inviti a ballare la salsa, una serata di mixologi o anche a prendere il cono gelato migliore al mondo, è più stimolante e divertente. Il punto è che se riesci a mantenere il tuo invito a bassa pressione e alta stimolazione, è molto più probabile che tu ottenga un sì, piuttosto che mantenere un invito ad alta pressione è generico. Segui tutti questi cinque suggerimenti e ti muoverai in modo impeccabile dal numero di una ragazza al primo appuntamento. Se ti è piaciuto questo video, probabilmente sarai anche interessato a come fare una buona impressione. Per questo motivo voglio farti un regalo, che arriva direttamente dalla Carisma University. Si tratta di suggerimenti per controllare 4 emozioni fondamentali durante le relazioni. Se vuoi scoprirne di più, clicca il link che compare sul video. Cliccando questo link avrai dunque accesso al video, ma soprattutto avrai accesso al nostro gruppo segreto di Facebook. Qui troverai persone come te con cui scambiare idee, consigli e ancora avrai la possibilità di aver a portata di mano e in tempo reale i video che pubblichiamo. Io ti ringrazio per la visione di questo video, spero ti sia piaciuto e spero di ritrovarti su Facebook.